hai imparato a scappare chi è? bravo! bravo! avete imparato tutti sei lì a farlo ci piacerei molto ci piacerei molto è sempre lì a cagare dobbiamo andare a prenderlo quello lì? arriva, arriva guarda là questo è un monte, io so che va bene dai è il campo di colpo è riportato via Oh cazzo, guarda da litigare con Ivan Chi è? Mantico Dico come fai qua il volo Porco Dio Poi quello là è tutto tecnica Questo è tutto sgarlone, figura di cosa viene fuori Ancora? Venuto su, non in piedi Però che la moto dietro l'ha fatto tutto così Per me è il giubbetto che non ti fa andare Ti tiene troppo Paura, paura Azzè, ho qua A poco Azzè, ho qua Grazie.